Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase, oggi mi trovo in via Gregorio XIII, in zona boccea, molto vicino alla metro Battistini, a pochi minuti a piedi, via Gregorio XIII, l'appartamento essenziale. È un appartamento a un primo piano sul rialzato, ci sono solo 30 gradini da fare per arrivare alla casa e quello che mi ha colpito molto di questa casa è l'ottimo stato in cui si trova e la vista abbastanza aperta. Eccola qui, verso ovest, quindi dall'ora di pranzo fino al tramonto c'è sempre sole diretto in casa. Entrando c'è subito questo soggiorno molto spazioso, sono quasi 20 metri quadri, la porta di fronte a noi sulla destra è la porta d'ingresso, mentre questa sulla ministra è un comodo ripostiglio dove c'è attualmente anche un'asciugatrice. Sulla sinistra del soggiorno c'è sia il bagno che è completo di tutti i sanitari, lavabo, tazza, ovviamente c'è anche il video dietro la porta e box doccia con una bella finestra alta e la cucina che è una cucina sicuramente abitabile. Eccoci qui. Come vi ripeto e lo sottolineo queste finestre grandi e l'esposizione ad ovest che è un'esposizione alta danno tantissima luce alla casa. Sulla destra la camera da letto, dove qui dove c'è questa porta scorrevole bianca è stata creata una cabina armadio che ovviamente può essere tolta e ripristinata dalla camera originale di circa 18 metri. Questa è la camera da letto attuale e l'accesso al balcone. Il balcone è un balcone standard della zona, ecco qua la faccio, vedete adesso è pomeriggio, sono le due e mezza, guardate il sole dov'è, la faccio molto tranquillo. Quindi ricapitolando siamo in via Gregorio XIII, appartamento essenziale, ha un primo piano sul rialzato, ottimo stato interno, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con armadio a muro, ripostiglio, bagno e balcone. Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarmi, a breve sulle destra ci saranno i miei recapiti. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax, hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie. 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 Grazie.